erbette fresche quindi ciuffettino di basilico tre foglioline di menta e dell'erba cipollina e sminuzziamo tutto a coltello sminuzziamo sminuzziamo oggi andremo a fare due tipi di salse per l'estate giustamente quando vuoi fare qualcosa di particolare una tartina un tramezzino invece di usare le solite salse pronte ce le prepariamo noi perché siamo bravi yogurt greco due bei cucchiaioni uno due pronto adesso andiamo a mettere sale e pepe lasciate un po di erba cipollina per la seconda salsina le nostre erbette sminuzzate giriamo 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 prima salsina pronta velocissima freschissima un ovetto e in facciamo nel mini pimer io chiamo mini pimer anche perché si chiama così facciamo un po di pubblicità no anche no grazie un ovetto sale dentro il nostro braccino e iniziamo a far frullare a filo più o meno 100 ml di olio tanto ve ne accorgete perché inizia ad addensare state frullando nel frattempo è ma dici ma che stiamo facendo la maionese anche no no facciamo la versione light noi ok lasciamo frullare senza muoverlo quando vedete che si è addensato passeranno un paio di minuti piano piano tirate su sempre frullando il braccino piano 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 si infattisce e di nuovo giù ok la nostra salsina è quasi pronta vedete non è densa perché perché adesso andiamo ad aggiungerci anche due bei cucchiaioni di sempre di yogurt greco e giriamo finché togliamo i grumi dello yogurt piano piano è senza farla troppo sballottare vedete piano piano io vado schiacciando sulle pareti guardate il risultato ha un pochino di erba cipollina che mi sono persa il video non ho capito perché comunque ho messo un pochino di erba cipollina per dargli quella freschezza buona quel sapore particolare pepe e queste sono pronte le nostre salsine per l'estate vi sono piaciute guardate che densità e allora vi aspetto alla prossima ciao ciao